Prova a rubare un furgone a Barletta, a scoprirlo sono i carabinieri che hanno arrestato un pregiudicato, 37enne di Margherita di Savoia, con l'accusa di tentato furto aggravato. I militari, durante un servizio di perlustrazione, in transito sul lungomare Pietro Mennea, si sono insospettiti nel notare un uomo che, dopo aver parcheggiato una Fiat Uno, era salito su un furgone in becco, parcheggiato poco più avanti. I carabinieri si sono avvicinati al furgone ed hanno notato l'uomo, accovacciato nella cabina guida, che stava armeggiando con un cacciavite nel tentativo di avviare il motore. Futili le motivazioni nel tentativo da parte del 37enne di giustificare il suo comportamento. Subito dopo sono scattate le manette. Gli accertamenti effettuati sul conto della Fiat Uno hanno inoltre permesso ai carabinieri di scoprire che l'utilitaria era stata rubata poco prima Margherita di Savoia, ad un'ignaria proprietaria, avvisata del furto proprio dai militari. Per tale motivo è scattata anche la denuncia per ricettazione. Dopo l'arresto, l'uomo, su richiesta della Procura della Repubblica, è stato trasferito nel carcere di Trani. L'auto e il furgone, invece, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.